Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento consueto del venerdì con il live shopping, lo shopping creativo di Neki Shop che vi permette di stare comodamente a casa vostra mentre io vi spiego, vi faccio vedere ogni volta dei prodotti nuovi per la vostra creatività e ogni volta vediamo insieme come realizzare qualcosina di creativo e lo so che questa è una parte che vi piace molto di questo nostro appuntamento. Allora, le vedete qua già qualcosina, ve l'abbiamo anticipato stamattina, che cosa avremmo fatto oggi? Allora, qui ci sono delle bellissime piantine grasse di tessuto, guardate che carine che sono e oggi vedremo come farla, quindi avete già capito che oggi parleremo di cucito perché sono sì, piante finte di tessuto, sono perfette soprattutto per me per esempio che mi muoiono tutte le piante, cioè io ho un pollice nero, sarà che uno dice quando uno è creativo è creativo un po' in tutto ma non lo so se per le piante ci vuole la creatività, so che io non riesco molto a tenere, ecco l'unico mio fedele potus qui di dietro che resiste nonostante io gli dia l'acqua tipo una volta ogni quando mi ricordo però vive nel vaso dell'acqua, quindi io sono a posto, ecco è l'unico che resiste in perterrito tutte le altre non c'è verso, cioè quindi chi mi regala una pianta solitamente non mi conosce anche chi mi conosce bene non mi regala le piante comunque stasera guardate che carine che sono, io le trovo veramente adorabili ho pensato che potrebbe essere anche un regalino carino per la festa della mamma la festa della mamma si sta avvicinando, lo sapete che sta arrivando la festa della mamma in maggio e quindi possiamo già cominciare a preparare qualche idea e a darvi qualche spunto per fare un regalino simpatico che poi naturalmente potete decorare in tanti modi mettendo magari anche un cartellino per esempio con scritto grazie per avermi fatto crescere o qualcosa del genere no? che può essere carino perché è riferito alla pianta così come è riferito alla mamma e quindi insomma potete inventarvi qui sicuramente con Cricut potete decorare il vaso con scritto mamma ti voglio bene mamma, qualsiasi cosa insomma può essere una cosa carina è decorativa quindi mica tutte le mamme hanno il pollice verde ci sono tante mamme che hanno il pollice verde, la mia ha un pollice verdissimo è bravissima a tenere le piastre, non è brava lei, la mia mamma ma naturalmente non è per tutti come per esempio per me non è e quindi si può regalare anche una piantina finta come queste quindi queste sono le proposte di questa sera che realizzeremo ma le realizzeremo sarà un modo anche per introdurvi una nuova macchina per cucire una macchina per cucire che è arrivata in casa Necchi da poco l'avete vista sicuramente sulla copertina principale del nostro sito perché è tutta bella colorata facciamo spazio facciamo un po' di fornice di piante qui, guardate che bella questo inforniciamento e prendiamo la nostra bellissima HP04, eccola qua, è una nuova elettronica facciamola ridire se no così, avanti guarda, prospettiva una nuova elettronica carinissima perché guardate il colore è veramente molto carino molto anche fresco, giovane soprattutto anche per le ragazze che si avvicinano al cucito e stasera ve la racconterò un po' in tutto e per tutto, in lungo e in largo anche se non c'è troppo da dire nel senso che è una macchina veramente molto molto semplice da utilizzare e poi lo vedremo insieme infatti quanto è semplice ci sono 40 punti, scusate, ci sono 40 punti e sono i punti più utilizzati quindi una selezione di punti pochi, nel senso compatti, tutti qui che si vedono subito facilissimi da trovare, da selezionare e sono stati scelti tra i punti più utilizzati in assoluto per la sartoria, il patchwork quilting e il cucito creativo quindi qui ci sono i punti più utilizzati in assoluto e vedrete che appunto sono quelli che di solito uno cerca quando va a comprare una macchina per cucire quindi dopo li vediamo sicuramente più da vicino e ve la racconto un po' innanzitutto diciamo che questa puntata per quanto spero che mi seguano anche le persone che amano il cucito e che sanno già cucire da un po' che magari hanno anche la loro macchina e vogliono vedere un po' per stare un po' insieme e un po' per vedere come si realizzano queste piantine se non le avete già fatte ma soprattutto mi rivolgo a chi non ha mai cucito che quindi sta pensando di acquistare una macchina perché magari è la sua prima macchina e vorrebbe cominciare a cucire seriamente oppure ha in casa una macchina presa tanto tempo fa o che gli hanno regalato dal supermercato che ne so qualche una macchina che non va tanto bene la vorrebbe cambiare ci sono mille motivi per cui uno adesso può decidere di comprare una macchina non solo perché non ha mai avuto una macchina della sua prima macchina ma perché magari la vuole cambiare vuol passare da una meccanica a un'elettronica ma non vuol fare una grande spesa perché poi non cuce tantissimo quindi questa è la macchina ideale proprio lo sapete che alla fine vediamo tutti i pressi comunque vi dico già che è una macchina che sta sotto i 300 euro quindi sicuramente un prezzo veramente molto molto abbordabile per tutte le tasche oltre che naturalmente sul nostro sito avete la possibilità di pagare anche a rate o in tre rate o in dieci rate insomma alla fine poi è una spesa che si riesce a fare in modo anche abbastanza comodo è un'elettronica quindi abbiamo già una macchina che comunque ha diciamo delle facilitazioni in più rispetto a quelle che sono le macchine meccaniche e chi ha un po' di confusione rispetto a questo argomento sicuramente si sta chiedendo ma perché? Qual è la differenza tra la meccanica e l'elettronica? io faccio sempre un paragone che è comprensibile credo a tutti uomini e donne c'è anche gli uomini lo possono capire con questo paragone e mi rivolgo anche agli uomini perché ho visto anche ieri sera mentre ero lì su TikTok che guardavo un ragazzo che si è modificato una felpa così non gli piaceva ha preso una macchina per cucire che aveva in casa e si è modificato sta veramente diventando una cosa molto carina tra i ragazzi il fatto di arrangiarsi da soli per rendere un po' più fashion delle cose che hanno in casa che magari hanno delle linee non proprio appunto moderne e quindi le vogliono un po' rimodernare fare un po' di refashion quindi tantissimi ragazzi anche maschi prendono la macchina per cucire si mettono lì e fa figo saper cucire e sapersi sistemare le cose quindi mi rivolgo anche a loro e vi spiego la differenza tra meccanica e elettronica anche in questo modo la meccanica è come un'automobile col cambio nel senso che ogni volta che devo cambiare marcia io devo farlo in modo manuale così come la macchina la cucire meccanica ogni volta che devo cambiare punto cambiare regolazione eccetera lo devo fare in un modo manuale meccanico quindi utilizzando delle manopole eccetera la macchina elettronica invece è più simile all'automobile con la guida automatica quindi un'automobile che scala le marce che fa delle cose in automatico quindi con degli automatismi e quindi diventa molto più facile perché ogni volta che io seleziono il punto si imposta già la larghezza e la lunghezza del punto senza che io la debba andare ogni volta a regolare vi faccio un esempio se io sto cucendo con un punto dritto lungo che ne so tre millimetri ok e poi vado a selezionare un zigzag la mia lunghezza del punto è sempre tre millimetri perché l'avevo impostata tre millimetri con la meccanica quindi se il mio zigzag lo voglio lungo cioè lo voglio più corto di un millimetro devo andarlo a regolare invece nell'elettronica ogni volta che si cambia da punto dritto a punto zigzag o agli altri punti viene già una preimpostazione che naturalmente io posso cambiare a seconda delle mie esigenti ma viene già una preimpostazione in modo che io posso partire subito con la mia cucitura perché sono le impostazioni diciamo più utilizzate quando si cuce cioè il zigzag solitamente si fa con quelle impostazioni quindi te le dà già che tu naturalmente dopo se vuoi puoi cambiare ma se no parti subito via questo è un esempio si comanda tutto in modo elettronico con un display veramente molto semplice quindi ci sono quattro tasti uno che va su uno che va giù uno che va a destra uno che va a sinistra non ci si può sbagliare ci sono delle macchine elettroniche che hanno tantissimi tasti tantissime funzioni che possono spicchiare il punto che possono andare a mettere in memoria una combinazione di punti possono fare degli alfabeti possono fare delle cose eccetera ma quelle spesso spaventano anche chi si approccia all'elettronico però dice no 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 io non so mica affatto devo studiarli così devo spingere non lo so quindi questa macchina è idealissima per chi ha un po' paura dell'elettronica quindi con questa proprio paura a zero perché cioè andare su andare giù da destra a sinistra credo che sia una cosa che sappiamo fare tutti ok e non c'è nient'altro da imparare dopo vi faccio vedere come facci e quindi è super semplice questi sono i tipi di macchine che quando io facevo corsi con le bambine di otto anni quelle tali che cominciano sette otto anni a mettere le mani sotto la macchina per cucire davo sempre la macchina elettronica non la meccanica perché la meccanica bisogna saperla muovere usare cioè se è un neopatentato dare una macchina col cambio fa più fatica guidare anche con una macchina automatica giusto quindi l'elettronica deve essere intesa così allora mentre vi ho fatto questa breve introduzione della differenza tra le meccaniche e le elettroniche vengo a vedere se qualcuno sta mi ha già raggiunto e ci sta salutando sta già facendo magari qualche qualche domanda allora vediamo un po' andiamo a vedere un po' nei commenti sono qui col mio telefono eccoci qui eccoci allora intanto saluto le affezionados come la Simonetta che c'è sicuramente ciao Simo poi dopo c'è la Sara, la Lia, la Lucia ma no non riesco più a vedere la vicina aiuto la Lucia ciao la Maria buonasera Flora che mi saluta ciao che prezzo ha ecco come vi dicevo il prezzo sta sotto le 300 euro però esattamente nello specifico c'è un prezzo di listino però sapete che poi alla fine io vi do le offerte lo sconto dello sconto dello sconto e quindi il prezzo cala 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 quindi alla fine vediamo quanto vi verrebbe a costare con la promozione di questa sera ok ciao a tutti dice anche Mimma ciao Mimma ben ritrovata e Ottomar ciao grazie che mi hai raggiunto allora lei mi ha trovato ieri su TikTok mentre facevo le mie piantine in preparazione per la diretta di oggi e l'ho invitata a seguirci anche qui nelle nostre dirette del venerdì pomeriggio sono molto molto contenta che tu sia arrivata Otto che è il nome del gatto ecco ricordiamoci contenta di rivederti in buona forma dice Mimma sì perché venerdì scorso la mia voce era sono ancora a casa perché finché non sto bene preferisco non andare in giro a contagiare la gente con i miei virus comunque insomma adesso sto già molto meglio quindi sono qui con voi anche oggi bene se avete domande mi raccomando io adesso vi presento questa macchina e vediamo come funziona ma è veramente veramente molto semplice vediamo anche i punti stasera approfitto anche per spiegarvi un po' la differenza dei punti perché molti dicono ma questo punto cosa serve? questo punto cosa serve? quindi stasera vi vediamo anche insieme così facciamo chiarezza su questa parte allora andiamo a collegare la nostra macchina metto un po' di corrente innanzitutto per installarla è molto semplice qui dietro abbiamo uno spinotto per la corrente che è questo uno spinotto per il pedale che si chiama anche reostato quando sentite parlare di reostato è sempre il pedale nelle macchine elettroniche solitamente sono separati due cavi nelle macchine meccaniche solitamente c'è un unico cavo dal quale un unico spinotto dal quale escono due cavi uno per il reostato e uno per l'alimentazione e poi il pulsante di accensione si accende la luce la bellissima luce elettrica ci fa vedere molto bene come lavoriamo sul nostro piano qui abbiamo un bello spazio di lavoro quindi una macchina ampia è una macchina anche robusta è una macchina che comunque si solleva bene naturalmente così la potete riporre mettere via tirare fuori all'occorrenza però è anche una macchina che una volta appoggiata sul tavolo ha una bella base larga vedete quanto è larga questa base e quindi sta bella bella appoggiata guardate che base larga che ha quindi non si muove è una macchina super solida qui ha il suo alta piedino abbassa piedino molto semplice da tirare su e giù e questo è il volantino che fa scendere l'ago e alzare l'ago però solitamente nelle macchine elettroniche si utilizza il pedale questo in particolare ha una bellissima funzione che se io spingo il pedale da un colpetto mi va l'ago giù da un altro colpetto mi va l'ago su e questo è molto comodo perché non devo spingere nessun tasto particolare per far andare l'ago su o l'ago giù quindi un colpetto giù e si ferma sempre giù quindi ogni volta che devo girare l'ago rimane giù un colpetto su e si ferma sempre su quindi è veramente comodo tieni un polpito se no poi mi si ingruglia la prima cucitura perfetto ora vi faccio vedere com'è facile selezionare i punti no? perché è quello che volevamo capire cioè l'utilizzo di questa macchina quanto è facile? è stra stra facile allora innanzitutto qui vedete la tabella punti e dopo ne parliamo più nello specifico i punti che cosa servono che cosa fanno sono 40 vedete mi sono ingannata ieri a parlarne perché leggendo 39 ho detto 39 punti no perché abbiamo anche 00 che fa un punto e quindi sono 40 anche perché se no ci sarebbe un buco qua se sono file da 10 non lo so e quindi quindi allora questo abbiamo i punti dritti dopo poi li vediamo un po' nello specifico tutto quanto i punti zig zag le asole abbiamo anche 4 asole i punti pieni per fare i vari orletti smerletti cose del genere punti decorativi punti applique punti per unire due petti insieme e poi dopo altri punti decorativi tra cui cuoricini fiorellini foglioline stelline molto molto carini come si selezionano? è semplicissimo perché avete un numerino sopra ogni vostro punto quindi se io voglio cucire il punto diciamo 25 delle stelline vedete qua abbiamo le decine le unità e quindi dovrò mettere il 2 qui e il 5 qui ok quindi adesso la inclino un po' così per farvi vedere con questo c'è adesso il cursore sottolinea l'unità vedete io vado sulla decina spostandomi vedete il cursore si sposta sotto ai numerini quindi decine unità larghezza punto lunghezza punto quindi vado sulla decina sulla decina devo mettere il 2 quindi dallo 0 se devo arrivare a 2 devo salire quindi salgo 1 2 poi mi sposto sull'unità quindi mi sposto di qua qui devo andare al 5 dallo 0 o salgo scendo insomma arrivo a 5 1 2 3 4 5 cioè vedete che il punto è già selezionato e il punto è già preimpostato perché venga una bella stellina deve essere una larghezza di 2 millimetri stiamo parlando e una lunghezza di 3 ok chiaramente io la posso deformare la mia stella e farla più schiacciata più lunga un pochino ci posso andare a giocare con queste misure certe volte posso aumentare o calare molto certe volte no se non mi ricordo più com'era quello standard semplicemente vado a cambiare punto e ritorno sul punto in modo che mi ripresenta le condizioni standard del mio punto ok in questo momento mi indica anche che ho l'ago su e se io faccio così indica che ho l'ago giù quindi questa iconcina mi ricorda che il mio ago in questo momento è abbassato e ogni volta che mi fermo rimane abbassato questo invece è il piedino consigliato per fare questo tipo di punto il piedino ha dopo vediamo anche che ci sono diversi accessori no? comunque questo è quello che quanto è facile andare a fare una selezione quindi o cucire a rovescio non l'avevo ancora fatto tiriamo su il pedale ok mettiamo qui abbasso il piedino cioè mi sento come quei pianisti che suonano con le mani dietro la schiena benissimo oddio tanto la macchina trascina da sola no? come vedete quindi io posso anche non tenere le mani quando mi voglio fermare per saltare il punto utilizzo questo mentre vado devo spingere il pedale allora mi fa una salgatura sul posto per fermare il mio punto in modo che non si sfili poi qui abbiamo il tagliafilo sul lato il coltellino tagliafilo ed ecco qui le mie stelline stelline perfettamente eseguite ed è la dimensione corretta perché ho lasciato quella preimpostata ok belle sul davanti belle anche sul dietro quindi c'è proprio una bella cucitura la cosa bella che facciamo con questa macchina veramente tanti tanti punti decorativi molto molto carini allora intanto Cristian ci dice scusate buonasera ma gli sconti di stasera riguarderanno solo la e poi si è perso ci saranno diversi sconti ci sono no no ci sono anche sconti per chi vuole acquistare altri prodotti su necky shop allora vi volevo far vedere un pochino la resa di questi punti che bellini che sono adesso qua per esempio ho fatto questo è il punto pieno con le impostazioni però si può come vedete renderlo eventualmente più fitto il cuoricino perché così è un po' rado quindi possiamo andare poi ad agire sulla lunghezza del punto per ottenere un cuoricino più fitto comunque vedete che carine le foglioline le ondoline queste le useremo dopo poi abbiamo fiorellini cuoricini e tutte le altre cose qui c'è il punto applique e adesso andiamo a vedere un pochino anche il discorso dei vari punti il zigzag vedete se io l'ho imposto mettiamo il zigzag in questo caso il zigzag è il numero quattro quindi ci spostiamo sulle decine e andiamo a mettere lo zero ok sulle unità andiamo a mettere il scusate scendo il quattro ok e mi dà un due di larghezza e cinque di lunghezza naturalmente io se cambio queste proporzioni la lunghezza è quanto si sviluppa in questo modo quindi qui ha poca lunghezza qui ha molta lunghezza la larghezza è quanto si sviluppa in questo modo quindi qui ha tanta larghezza un massimo di larghezza è sette millimetri perché questa è una macchina che può sviluppare al massimo sette millimetri in larghezza e in lunghezza cinque adesso infatti vi faccio vedere se io vado sulla larghezza posso aumentare fino a sette vedete dopo non mi fa più andare e posso calare vediamo fino a quanto posso calare fino a zero cioè la cucitura sul posto addirittura quindi se voglio fare un zigzag fitto 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 che sia come un cordoncino fitto posso mettere a zero due per esempio invece la mia lunghezza del punto può arrivare fino a quattro e mezzo ecco scusate quattro e mezzo di lunghezza del punto scusatemi allora qua parlavamo di larghezza quindi quando è a zero la larghezza è un punto dritto no? perché mi allargo in questo modo quindi quando è a zero la larghezza è un punto dritto quando invece è vicino allo zero la lunghezza quindi caliamo 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 arriviamo a zero tre è fitto 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 perché è la lunghezza quindi viene avanti procede molto lentamente spero di non avervi fatto confusione ok? poca lunghezza poca larghezza che è piccolino ok? quindi vedete che bei punti che fa adesso non li facciamo tutti uno per uno però vi faccio vedere per esempio il discorso del punto applique il punto applique è un punto veramente molto utilizzato nelle applicazioni le applicazioni che cosa sono? sono quando per esempio si deve mettere un non lo so una forma di qualcosa tipo un cuoricino magari se c'è del termoadesivo è meglio adesso lo facciamo così proprio per farvi vedere ecco ho fatto un cuoricino se questo cuoricino io lo voglio attaccare sul mio tessuto su un jeans voglio farlo per fare una presina per fare un astuccio qualsiasi cosa posso fare le applicazioni dove voglio utilizzo questo punto fatto appunto così che si chiama anche e stitch perché ha la forma di una e fatto in questo modo ok adesso proviamo per esempio a farlo insieme cambio la telecamera perché non riesco più a faccire a rovescio ma devo faccire così il consiglio che vi do quando usate quando fate l'appliqué è di utilizzare questo piedino questo è un piedino che c'è in dotazione in dotazione avete il piedino questo si chiama saten per punti saten perché perché sotto ha una scanalatura cioè qui è più alto rispetto alle due barrette di metallo questa differenza di altezza permette quando si fanno i punti saten che sono questi punti pieni di avere lo spazio per i punti cicciotti per passare sotto e non venire schiacciati dal piedino oltre ad avere questa trasparenza che mi permette appunto quando vado a fare un applique di vedere esattamente dove vado a cucire altrimenti il rischio è ecco vediamo se mette a fuoco altrimenti il rischio è che io non veda bene la cucitura siccome devo proprio farla a cavallo del bordo ho bisogno di vedere la trasparenza questo piedino che si comprano anche separatamente se non ce l'avete per la vostra macchina con questa macchina viene data in dotazione si toglie il cassettino portoggetti qua si vedono appunto i vari accessori e togliendo il cassettino portoggetti vedete che la macchina diventa braccio libero dove posso andare a cucire i vari tubolari quindi negli accessori questa macchina ha naturalmente il piedino per fare le asole il piedino per fare un'asola automatica questa macchina ha quattro asole che le potete fare semplicemente spingendo un bottone perché sono automatiche poi ha il piedino per il cucito standard che sotto invece è piatto completamente ed è fatto in questo modo e poi c'è il piedino per le cerniere che è naturalmente super utile perché naturalmente dovete sempre avercelo quello per le cerniere poi abbiamo un fermarocchetto grande un fermarocchetto piccolo lo sfuciasole qualche ago di ricambio e il cacciavitino per smontare se avete bisogno di pulire la placca o per altri motivi questi sono gli accessori che sono in dotazione che sono gli accessori diciamo che assolutamente servono per la vostra macchina quindi prendendo questo piedino che come vedete ha l'aggancio rapido del piedino cioè abbasso e alzo è già montato e se lo devo togliere spingo questa levetta e sgancio vedete che è super semplice proprio quindi per tutti prendo imposto la mia il mio punto che in questo caso è il 22 e poi vado a vedere la lunghezza naturalmente io avendo un cuoricino piccolino utilizzerò un punto applique piccolino tipo questo non tipo questo però il bello di questa macchina è che fa l'applique fino anche a 7 mm quindi così riesco a fare anche quei quilt molto grandi dove ci sono delle applicazioni molto grandi altrimenti con questa ci metterai una vita e quindi non tutte le macchine vi permettono di fare l'applique con il punto così grande comunque questo in questo caso dovrebbe essere una larghezza di 3 3 o 3 e mezzo e una lunghezza di 2 e mezzo adesso vediamo allora così come ce la dà è ok questo qui è troppo grande quindi andiamo a mettere la lunghezza siccome fa 3 punti eccolo qua vedi prima trovate trovate la vostra misura capisco perché non mi mette a fuoco ciao ciao ci sei ecco prima trovate la vostra misura questo ha 3 punti tra una stanghette e l'altra quindi i puntini devono essere piccoli piccoli infatti ho messo 1 e mezzo e la larghezza 3 e mezzo andiamo a vedere cosa succede voi appoggiate il vostro cuoricino grazie appunto la trasparenza del piedino riuscite a vedere dove adesso qua c'è la luce che un pochino vi imbarbaglia però l'angolino ci si ferma sempre perché per farlo venire bene bisogna farlo in un certo modo molto velocemente non è facile però vedete io posso dire alla macchina di fermarsi con l'ago giù in modo che ogni volta che devo girare l'ago rimane giù e non devo metterlo giù io con la mano quindi vedete un mio colpo di piede mi permette di procedere a un pochino alla volta eccoci non è sicuramente uno dei miei migliori appicchi però per farvi capire che cosa serve soprattutto per aver mai usato questo punto questo è un punto che non si trova nelle macchine meccaniche solitamente vedete quello che intendevo è questo quindi andare a fare un'applicazione con questo punto fatto in questo modo che è anche un gusto un po' country se lo fate in contrasto altrimenti utilizzate lo stesso colore in tinta vedete dovete restare proprio sul bordo sul bordo senza piedino trasparente non riuscireste a farlo comunque c'è un video tutto intero mio che ho fatto dedicato proprio a come si fa l'applicare così e lo potete andare a guardare fatemi vedere se ci sono delle domande vediamo un pochino ok nessuna domanda in particolare quindi procedo un altro punto carino è il punto di congiunzione dei tessuti sempre per il patchwork che è un punto fatto in questo modo e anche questo volendo si può ridurre si può aumentare di larghezza ok è questo per andare a unire due pezzettini di tessuto quindi se noi adesso prendiamo due pezzettini di tessuto piccolini tipo questo e questo dove sono andate le forbici ecco mettiamo insieme due pezzi di tessuto e li possiamo anche fare per fare tipo del crazy patchwork o cose del genere cioè su una base andare a creare una composizione per utilizzare tanti pezzettini insieme oppure fate tante mattonelle già finite e con queste le andate ad unire quindi vi posizionate con il piedino che ha un segno nel centro per farvi capire e andate a cucire proprio nella cucitura centrale in teoria non si dovrebbe vedere ah ho finito la scoletta benissimo allora finendo la scoletta approfitto per farvi vedere anche come si fa la scoletta in modo molto semplice si toglie dalla base qua questa è una macchina rotativa quindi ha la scoletta che gira in questo senso in modo orizzontale non è sotto in verticale come le macchine invece meccaniche e andiamo un pochino a vedere se riesco a inquadrare la parte di sopra qua prendiamo il nostro filo lo sfiliamo e poi ci sono dei disegnini sopra la macchina che vi guidano per come far passare il filo dentro le guide quando si fa la scoletta solitamente io infilo il filo dentro a un buchino per fare in modo che non ci sia nessun groviglio e poi appoggio la scoletta nel perno apposito spingo verso destra vedete che si sgancia e si spinge verso destra e poi dopo un po' che è avvolto taglio il mio filo e continuo ad avvolgere la scoletta quando è un po' fatta sgancio io di solito taglio qui nel rasafilo e poi reinserisco nell'alloggio porta scoletta che ha anche il taglia filo in modo che io posso inserirla tagliare il filo ed è già tutto pronto l'infilatura sopra è molto semplice perché si infila come tutte le macchine scendo salgo scendo e utilizzo il mio infila ago automatico per infilare l'ago così non ho nessun problema anche se non ci vedo più bene come adesso ecco qua la macchina che è stata infilata in tre secondi ok benissimo allora ritorniamo un attimo a inquadrare qui perché adesso vi parlavo un attimo dei punti quindi il punto come posso farvi vedere spostiamo questo computer qui allora eccoci qua con i punti così ecco allora guardiamo un attimo tutti questi punti mettiamo a fuoco segui la mia mano seguimi 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 vediamo se ci guarda allora qui ci sono i punti principali che vi dicevo sono quelli più utilizzati abbiamo punto dritto punto dritto con l'ago spostato verso sinistra per fare le cuciture più a ridosso di sinistra poi abbiamo il punto triplo ribattuto che è quello che andremo a utilizzare adesso per fare le nostre piantine perché è ribattuto su se stesso e quindi diventa anche più grosso diciamo non riesco a capire perché non mi mette a fuoco ecco vediamo se segue la mano non lo seguo comunque poi abbiamo un punto questo qui fatto a fulmine è un punto elastico quindi è come fare un punto dritto però su un tessuto elastico quindi questo si utilizza soprattutto se cucite tipo della maglina o cose del genere volete fare una specie di punto dritto anche se un po' l'effetto è zigzagato poi abbiamo il zigzag normale e il zigzag triplo il zigzag triplo permette di mantenere il bordo bello teso cioè nel senso se io devo fare un zigzag per rifinire questo bordo e non voglio che sfilacci se faccio il zigzag normale essendo questo tessuto molto sottile mi si arrotola ok cioè il zigzag facendo di qua di là di qua di là mi va a arrotolare il tessuto invece questo triplo mi fa un due tre un due tre un due tre un due tre e quindi rimane bello steso quindi si utilizza soprattutto chi non ha la tagliacucci e vuole rifinire l'interno nell'abbigliamento utilizza questo punto triplo poi c'è un triplo un zigzag ribattuto io non lo utilizzo molto però è sempre un punto elastico e questo è una specie di overlock che dovrebbe riprodurre un pochino l'effetto tagliacucci cioè mentre ti faccio la cucitura dritta anche ti rifinisco e ti chiudo il bordo ok poi abbiamo questo per l'orlo invisibile che serve per fare nei pantaloni nelle gonne l'orlo invisibile poi abbiamo questo questo anche questo decorativo e quindi si può utilizzare poi come gli altri decorativi abbiamo le nostre asole fatte in diverso modo i punti pieni che come dicevamo sono decorativi e servono anche tipo questo per fare gli smerli fai lo smerlo e poi tagli tutto intorno il tessuto e poi dopo abbiamo come abbiamo visto adesso i punti patchwork e tutti gli altri punti decorativi quindi questo è come si utilizzano tutti i vari punti veniamo a questo punto a questo punto dopo che abbiamo parlato di punti veniamo alla realizzazione delle piantine aspettate un attimo che cambia un attimo l'inquadratura che vi voglio vedere allora come avete visto è una macchina veramente molto semplice da utilizzare naturalmente come tutte le macchine elettroniche ha anche l'abbassamento del trasporto cioè qui dietro c'è una leva che se spostate da una parte tira giù la griff e quindi non la macchina non trasporta più cosa serve serve per fare le lavorazioni tipo rammendo a mano libera ricamo a mano libera quando spostate la stoffa a voi naturalmente ci vuole un piedino adatto che è opzionale quindi va acquistato separatamente rimettendo la leva a posto al prossimo colpo di pedale sale di nuovo il mio trasporto come vedete è una macchina molto completa sebbene essenziale perché ha le cose essenziali ma tutto quello che serve qui c'è la regolazione della tensione naturalmente per tirare o meno il filo superiore può servire per fare delle arricciature o per aggiustare la tensione quando si fanno delle cuciture sui tessuti più pesanti o se per caso avete due fili diversi uno sopra uno sotto e quindi dovete un pochino regolare c'è la regolazione della tensione qua manuale che è molto pratica insomma ok allora adesso andiamo a fare la piantina allora vediamo prima questa come si realizza secondo me questa è molto carina e questo effetto delle foglie così viene dato proprio per un gioco di imbottitura e una specie di arricciatura che diamo con un punto particolare fatto così ad onda che la macchina ha a disposizione e quindi vi faccio vedere come si fa ok allora innanzitutto prendiamo della del tessuto tagliamo due rettangoli per ogni foglia adesso per fare una bella piantina io ho fatto sei foglie grandi tre foglie medie tre quattro foglie medie e quattro foglie piccole ok poi prendete ma a occhio molto non c'è bisogno di tante misure però ecco qui diciamo che siamo circa non so otto centimetri per il doppio otto per sedici otto per quindici ok per fare una foglia che in questo caso è considerata grande media grande poi cosa facciamo ne mettiamo rovescio contro rovescio perché non le risvoltiamo lasciamo così al vivo col taglio al vivo con le forbici a tizzare e andiamo a disegnare con la nostra cucitura tripla una forma di foglia lo facciamo così mentre mentre la mentre cuciamo ok quindi il punto triplo è quello che vi ho fatto vedere ribattuto che è il punto zero due in questa macchina e andiamo a cucire lasciando un'apertura sotto vengo su verso la punta e poi torno giù con una forma un po' curva innanzitutto preferisco pescare il giro di sotto visto che abbiamo messo la scoletta nuova così rimane dietro e non mi fa il groviglio parto un po' stretta consiglio sempre di partire tenendoli fili perché così non si aggroviniano su parto stretta mi allargo come vedete la macchina va avanti dietro avanti dietro avanti stavo seguendo intanto anche se vengono storte non importa perché le foglie in natura sono tutte diverse e quindi possono anche essere storte quando sono arrivata alla fine su in alto vengo avanti proprio così come all'arco verso l'esterno mi spingo verso l'arco ok questa è la forma che ho ottenuto come vedete non ho usato né carta modelli né niente ho dato una forma io così come veniva quando ho fatto questa operazione prendo le forbici a zig zag e vado a tagliare tutto intorno con le mie forbici zig zag così gli dà anche quell'effetto proprio vedete carino così del bocco a zig zag voilà allora vedete che così sì sarebbe già una foglia però manca un po' cioè per dargli tutta quest'anima che sembra così un po' un'insalata bisogna lavorarci ancora un pochino quindi cosa facciamo prendiamo dell'imbottitura quella che serve per riempire i cuscini cose così e ne mettiamo un pochino dentro quindi la riempiamo un pochino facciamo arrivare fino alla punta ma poca se no diventano troppo cicciotte e poi la andate a distribuire tutta questa imbottitura in modo che sia così un po' cicciottina adesso per anche adesso rimarrebbe troppo dritta deve un pochino venire così con torta arricciata per farlo utilizzo il punto che in questa macchina è il punto 29 che è vi faccio vedere questo qui questo però lo allargo e lo allungo molto per ottenere una cosina così e poi comincio a cucirlo senza dargli una direzione particolare ma muovendo anzi più lo muovo e più mi si contorce la foglia parto dalla punta e vengo verso il davanti facendo questo movimento il tessuto di sopra verrà tirato verso sotto si crea questo arricciamento quindi metto il numero 29 nella mia foglia e poi do una distanza e poi lo proviamo di punto per vedere quanto deve venire questa miscia allora la voglio un pochino più larga e un pochino più corta vediamo ancora faccio larga tutta ecco larga sette e lunga tipo un e mezzo così o anche due ma va bene anche un e mezzo fatto questo partiamo e via mentre giro sposto la foglia un po' che sia il ciclo possibile tagliamo subito i filetti così lavoriamo soliti vedete com'è posso anche allungare un po' di più il punto e adesso ne faccio un po' dall'altra parte spostiamo nella foglia questa è una tecnica segreta per avere vedete questo effetto tutto molto molto così arricciato bene allora fatto questo cosa serve adesso naturalmente li potete chiudere se volete le potete incollare però io queste le ho semplicemente inserite così sono tante 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 foglie che andate a comporre guardate come sono arricciate mettete l'arricciatura verso l'esterno naturalmente fate una base di foglie grandi quindi le più grandi le mettete verso l'esterno così e poi cominciate a inserire in modo scalato le altre che sono un po' meno grandi quindi medie ecco poi dopo dalle medie si passa alle piccoline e andate così a inserire le foglie più piccole questa è grande la mettiamo sotto così come vedete è molto semplice veramente facile veramente per tutti quella centrale la potete un pochino arrotolare e infilare dentro così ecco cioè proprio buttate dentro così vedete che è venuta già la piantina molto molto carina allora per fare questi è semplicissimo praticamente prendete fate la stessa cosa però invece di dare la forma di una foglia date una forma così un po' fatta in questo modo ne fate due e poi dopo li andate a sovrapporre uno sopra l'altro e li cucite in mezzo in modo che diventino quattro così sono due cuciti in mezzo poi li andate a imbottire questi salsicciotti qua lasciatene molto di bordo perché viene più bello ed eccolo qua il cactus potete fare uno grande uno medio uno piccolo poi inserite tutti dentro un vasetto e voilà che avete i tre cactus così diversi l'altro invece è risvoltato quindi stessa cosa di prima potete partire da un cartamodello che è come questo quindi mettete dritto contro dritto cucite tre sagome fatte così tagliate risvoltate e poi dopo andate a sovrapporli tutti e tre cucite in mezzo e questo è quello che ottenete chiaramente dovete poi andare a imbottire anche qua stesso discorso di prima e viene il vostro cactus se volete fare il fiore qua li trovate in rete come si fanno questi è un cerchio praticamente con del filo che schiaccia l'imbottitura e quindi il fiore eccolo fatto come vedete ci vuole veramente poco pochissima inventiva per ottenere delle cose molto carine da regalare alla mamma perché tra poco è la festa della mamma quindi abbiamo qui la nostra bellissima eccola teniamola qui la nostra bellissima HP04 i nostri bellissimi cactusini le piante grasse che li tengo vicino a me così li vedete bene e adesso parliamo di prezzi di sconti e tutto quanto intanto vediamo se ci sono delle domande buonasera a tutti intanto dice Marisa che ci ha raggiunto ciao Lea ciao Manu ciao Manu che mi stai salutando sto leggendo che mi saluti guarda qui e buonasera a tutte anche a Maria che ci ha raggiunto anche lei ragazze grazie a tutti un vostro saluto per me è sempre veramente qualcosa di grande perché so che mi seguite sempre con affetto vedere i vostri cuoricini i pollicini se avete voglia di mandare un cuoricino in questo momento vuol dire che mi state ancora ascoltando e io me ne accorgo proprio dai vostri cuoricini e adesso andiamo a vedere tutto il discorso delle offerte vedi che arrivano i cuoricini che bello così vi posso fare vedere in diretta tutti i vostri cuoricini fantastico bene spero che vi siano piaciuti i cactus e che ne farete tanti che me ne farete vedere come sono come sono fatti come vengono fuori le vostre piante che stoffe avete usato perché poi si possono fare di lino si possono fare colorati si possono fare in tanti modi adesso ho usato il verde perché è il più classico però chiaramente le potete fare in tantissimi modi andiamo a vedere invece il discorso delle offerte di oggi allora la macchina innanzitutto andiamo a vedere quanto vi è quanto costa la macchina quindi partiamo guardando sul sito Nekishop vediamo qua torniamo indietro così vi parlo un attimo anche per quanto riguarda le altre macchine elettroniche se qualcuno si sta chiedendo e vuole fare un acquisto condivido un attimo lo schermo così vediamo insieme il nostro il nostro sito allora le macchine elettroniche come vedete l'HP04 quella che vi ho presentato io è qui ed è la macchina diciamo più economica per quanto riguarda le macchine elettroniche poi avete altre macchine elettroniche come tutta la linea che ha più prestazioni queste hanno già gli alfabeti come vi dicevo hanno già delle memorie hanno delle dotazioni piano a lunga base tante cose anche in più però uno che dice guarda io voglio spendere poco il meno possibile però vorrei già un'elettronica quale posso prendere sicuramente questa tra l'altro questa è in offerta quindi invece che 3,29 costa 2,69 quindi questo è un prezzo veramente buonissimo è il prezzo di una macchina di una buona meccanica e col prezzo di una buona meccanica comprate un'elettronica e poi ti dico l'ho usata in questi giorni e mi sono trovata benissimo facilissimo cuce bene è un buon trasporto fa le cose che deve fare quindi robusta a me è piaciuta molto oltre che è carina e che sta bene anche in casa nella craft room eccetera quindi se acquistate questa macchina già con il prezzo a 2,69 in offerta avete anche in omaggio che cosa il kit di cucito della Prim che io vi ho già presentato in un'altra diretta che comprende tutta una serie di cose come gli spilli gli aghi la calamita le mollettine per il patchwork e tutte queste cose qua in più c'è il kit cucito jeans che è questo dove dentro ci sono tanti filati della Gutterman molto buoni un po' grossettini per il jeans e poi c'è anche il vediamo un po' se lo vedo qui no dov'è l'alzatina lo vediamo qua ecco questo strumento qui questo compensatore serve proprio per aiutare la macchina nel momento dello scavallamento dell'orlo nella parte dove c'è il doppio risvolto sulla cucitura per riuscire a fare una cucitura senza saltare il punto perché sapete che c'è un punto dove si deve fare un salto praticamente e la macchina se non è orientato bene il piedino può saltare un punto invece con questo compensatore andate perfettamente dritti quindi aiutate la macchina a stare sempre allo stesso livello della cucitura quindi con 269 avete la macchina più il kit Primlove e il kit jeans più il compensatore oltre a questo vediamo un pochino che non mi ricordo se c'era altre no sono tutte qua benissimo oltre a questo che vi dicevo che è il prezzo di 269 avete lo sconto se inserite necchi live 2504 quindi necchi live per il 25 aprile quindi la scritta necchi live necchi live 2504 tutto attaccato avete anche in omaggio il piedino tagliacucci quindi con questo avete tutto questo kit insieme più il piedino tagliacucci ok il piedino tagliacucci è questo piedino qua che adesso vi faccio vedere piedino taglia vediamo se così viene fuori lo trovo subito eccolo qua questo qui è un piedino tagliacucci che praticamente mentre voi impostate il punto overlock che è quello che vi ho fatto vedere questo piedino vi rifila il tessuto mentre cuce quindi voi impostate il punto overlock il punto viene fatto sopra questa diciamo questa guida del punto in modo che non si arricci il tessuto e qui c'è un coltellino che vi taglia il bordino è chiaro che non potete mai sostituire una tagliacucci con questo piedino però se dovete fare qualche lavoretto al volo di tessuti anche un po' leggeri con questo qui potete fare qualcosina ok bene quindi avete questo poi se aggiungete solo per te cinque e questo vale per tutti per tutti quanti quindi anche per chi non deve comprare la macchina per cucire ma deve comprare altre cose del sito di qualsiasi altre cose con solo per te cinque hai cinque euro di sconto è un buono spesa di cinque euro che ti diamo subito se spendi almeno cinquanta euro quindi per un acquisto sopra ai cinquanta euro mettendo solo per te cinque hai il cinque per cento di sconto naturalmente scusa hai cinque euro di sconto in più naturalmente mettendo anche il codice necchi shop cinque vi state segnando tutto no perché ogni volta ci sono talmente tanti sconti che bisogna prendere appunto necchi shop cinque questo segnatevelo che vi dà diritto sempre sempre in tutti i giorni dell'anno diretto non diretto non importa è un codice che vi dà diritto sempre al cinque per cento di sconto perché siete nostri affezionati clienti o perché ci seguite sui social eccetera quindi se chi ha sentito questo necchi shop cinque lo può usare sempre per avere il cinque per cento di sconto ogni volta che vuole anche di un ordine di cinque euro hai il cinque per cento di sconto se inserisci necchi shop cinque ok questo è un codice infinito cumulabile con altri codici sconto quindi lo potete mettere subito necchi shop cinque poi se aggiungete solo per te cinque avete cinque euro di sconto ogni cinquanta euro poi se dovete acquistare questa mettete anche necchi live venticinque zero quattro per avere il piedino taglia così in omaggio e quello ve lo dà inoltre il necchi live venticinque zero quattro dà anche uno sconto in più su filati e sia per il cucito quindi un venti per cento di sconto in più sui filati per il cucito e un quaranta per cento di sconto sui filati per ricamo che comunque sono molto buoni anche per cucire sono più lucidi sono comunque di poliestere con una buona tenuta molto colorati e quindi se dovete fare delle rifiniture con questi punti qua decorativi è perfetto anche quello da ricamo finono proprio carini carini cioè immaginate questi puntini qui tutti fatti con dei punti lucidini da ricamo ok no ce n'è una nuova non sapevo allora Nekyshop 5 da diritto sempre ogni giorno ogni notte è al 5% con Nekylive 25.04 fino a al 25 aprile credo sì fino al 25 aprile avete diritto invece del 5% quindi Nekyshop non lo mettete perché o uno o l'altro avete diritto al 10% di sconto su tutto il sito ok quindi vi ricapitolo che ogni volta sono troppi capisco che sono troppe offerte che vi vogliamo fare tutte le volte però però ci teniamo così a farvi tanti tanti regali quindi Nekyshop 5 lo tenete per tutti gli altri giorni dell'anno sempre tenetelo scritto lì da una parte quando non ci sono sconti di nessun tipo Nekyshop 5 ce l'avete sempre ok è uno per questa occasione fino al 25 aprile con Nekylive 2504 avete il 10% di sconto su tutto il sito più se comprate del filato vi scala il 20% se è per cucito il 40% se è da ricamo e se comprate questa macchina la KP04 che abbiamo visto stasera avete il piedino tagliacucci in omaggio in più se mettete il codice in abbinamento a Nekylive 2504 che si chiama solo per te 5 solo per te 5 sempre tutto attaccato avete 5 euro di sconto ulteriori se avete fatto un acquisto oltre 50 euro tutto chiaro? spero di sì perché ogni volta veramente ci sono tanti tanti codici e quindi si rischia di fare un po' di confusione quindi fino al 25 aprile due ne dovete inserire uno è Nekylive 25D 2504 e uno è solo per te 5 dopo il 25 aprile potete usare Neky Shop 5 bene basta stasera abbiamo finito così allora viva la mamma naturalmente venerdì prossimo vediamo che cosa vi proporrò magari sempre per la vostra mamma qualche altra idea che mi viene in mente comunque queste piantine io le trovo veramente veramente molto carine fatemi vedere se per caso mi avete fatto delle domande perché vi ho creato molta confusione quindi vi rispiego Mimma dice bellissima idea molto semplice di grande effetto parlava sicuramente della piantina delle varie piantine perché anche questa a me piace molto mi piacciono tutte devo dire la verità anche questa col fiore molto carina poi qui se uno vuole mette con un filo fa dei nodini fa tanti tipo spini molto carini vediamo se ci sono altre domande e richieste o saluti e altre cose bene direi che abbiamo esaurito tutti gli argomenti quindi io vi ringrazio di essere stati con me anche questa sera abbiamo visto tante cose insieme abbiamo visto tutti i punti utili quindi se qualcuno è arrivato adesso e vuole rivedersi la diretta basta che attenda alla fine di questa per rifarla partire da capo e guardare quindi che cosa servono i punti quali sono i punti utili e soprattutto com'è facile utilizzare una macchina elettronica soprattutto se ne avete paura se non siete sicuri e volevate qualcosa di semplice perché non vi piacciono troppi tasti troppe memorie troppi pulsanti e qua ne abbiamo quattro e non vi potete sbagliare io spero che vi sia piaciuta anche questa diretta Mima mi dice sì sì mi riferivo alle piantine sempre bravissima tua alla prossima ciao ciao grazie Mima sempre molto carina ti ringrazio tantissimo dei tuoi saluti dei complimenti così come i saluti di tutti quelli che sono stati con me stasera quindi io vi saluto sposto un po' le mie piantine per raggiungere il mio mouse e dare oddio mi casca la maglia e dare il termine a questo diretta di un po' delirante ciao ragazzi ciao a tutti grazie ancora a presto grazie a tutti